Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Warhammer Quest Blackstone Fortress, un gioco cooperativo della Games Workshop che ci è stato fornito dal nostro negozio sponsor, il gioco Libreria Semola, e lo ringraziamo veramente di cuore per averci offerto questa copia omaggio. Un gioco, come vi dicevo, cooperativo, sempre della serie di Warhammer Quest, ma non ambientato nel Fantasy o nel Age of Sigmar, quanto nel 40.000 ed è un gioco veramente che volevo da tanto tempo e sono contento finalmente di potervi portare sul canale. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Warhammer Quest Blackstone Fortress ci catapulta nel 40.000, quindi nel futuro dell'ambientazione di Warhammer, dentro una fortezza nera, le Blackstone Fortress famose, che più che fortezze volanti sono navi immense di cui non si sa niente della tecnologia, ma dove tutti ambiscono di poterci entrare perché all'interno vengono trovati reliquie e anche relitti di epoche passate dal potere smisurato. Se si va a vedere un po' l'ambientazione di Warhammer 40.000, le Blackstone Fortress di solito o viaggiano nel warp o escano in punti imprecisati e trovati casualmente senza nessun nesso logico, magari a volte catapultate fuori dal warp, dopo esserci state per centinaia, se non migliaia di anni. E nell'ultima crociata, quella di Abaddon, il distruttore, se vi ricordate un po' nella lore di Warhammer 40.000, una di queste Blackstone Fortress è stata presa e scaraventata nei cancelli di Cadia, sul pianeta di Cadia, famosa appunto per essere il pianeta principale, o comunque uno dei più famosi della Guardia Imperiale, da cui appunto vengono fuori i Cadiani, ed è stato completamente distrutto perché ci hanno buttato sopra questa Blackstone Fortress che ha fatto a mo' di meteorite, che ha disintegrato completamente dinosauri e vita sul nostro pianeta. E queste Blackstone Fortress sono, ve l'ho detto, queste navi, alla fin fine navi fortezza, disperse nello spazio dove tutti quanti, tutte quante le razze, da Eldar a Orki a Chaos a Imperium, anche e soprattutto a Deptus Mechanicus, ma non ultimi, anzi per i primi mercanti corsari e rogue trader, cercano di trovarle per abbordarle e cercare di entrare all'interno per fare un bel po' di gruzzolo di soldi o magari trovare tecnologie antiche e dimenticate. Ed è un gioco molto bello cooperativo, proprio nello stile di Warhammer Quest, per farvi capire che poi è un gioco venuto e un derivato, se vogliamo, anche dei vecchi star, questa appunto dell'MB e della GV, o anche Hero, questa che vedete qua dietro alle spalle. Quindi è un gioco che nasce con quell'idea lì per poi ampliarla. Però, a differenza dei vecchi Warhammer Quest, o anche quelli nuovi ambientati nell'Hedge of Sigmar, non nel vecchio mondo, questo l'ho visto un pochino più particolare. Non è stata unicamente una trasposizione dal fantasy al Warhammer 40.000, ma si sono inventate delle cose che a me piacciono veramente tanto. Vi do un pochino un'idea del gioco, di come funziona, ma prima di tutto, unboxing. Confezione del gioco, bella grande, non spessissima, ma è quella a cui ci è abituato alla Games Workshop, perché essendo giochi di miniature, e di solito ce n'è sempre tante, almeno una cinquantina, deve essere bella grande, poi le miniature ve le faccio vedere a parte perché le abbiamo già montate. Comunque, vedete, bellissimo questo equipaggio di un mercante corsaro, figura principale che andrete a guidare come personaggio principale, ma poi ce ne sono tantissimi altri all'interno, e vedete addirittura c'è anche un vecchio androide, e è molto bello, è molto vario, ci sono tutti i tipi di personaggi, c'è l'opzionico, c'è il combattente, c'è il combattente a distanza, c'è l'assassino, ce n'è per tutti i gusti. Apriamo. Subito troviamo un bel divisorio, tra l'altro bellino che da mettere in un quadrettino o qualcosa del genere, secondo me ci sta veramente, è un bel disegno, e da quest'altra parte vediamo sempre il disegno, quello sulla scatola, anche ancora una volta per un bel quadrettino ci sta. Poi, tutte quante le carte, il mazzo delle carte esplorazione, che queste qui quando girate possono essere carte combattimento o carte agguato. Quando vedete apparire una carta combattimento, andate a vedere come disporre la mappa, prendete tutti quanti i tile e l'andate a formare, perché nel gioco non c'è una mappa vera e propria. La mappa entra in campo quando durante il pescaggio della fase esplorazione viene fuori una mappa o combattimento, perché se è un evento di esplorazione non serve mappa, o una mappa di combattimento o una mappa di agguato. Poi abbiamo tutti quanti i mazzi, che sono armi, oggetti, equipaggiamenti, che ci fanno anche vedere la gittata delle armi e i dadi che tirano a seconda della gittata, quindi le armi sono diversificate. Magari se tirate a gittata un esagono solo, tirate questi dadi. A gittata due, tre, tirate questi. A gittata quattro più, estrema, usate quest'altri. E da quest'altra parte vedete il dorso appunto delle carte risorsa. Poi le carte mostri, le carte minaccia, in questo caso vedete un Chaos Beastman, e questi qui sono tutti quanti i mazzi appunto di carte, dove dentro ci trovate mostri, anche qui equipaggiamenti e altre cose. Dadi, che sono i dadi da sei, che vi servono per fare le vostre azioni, come ora vi faccio vedere fra pochino, e tutti gli altri dadi colorati a seconda dell'arma che è andato, dell'attacco che è andato a utilizzare, più il dado del destino, che è questo qua, il dado della pietra nera, della fortezza Blackstone Fortress, che dovete andare a tirare in delle azioni particolari quando ve lo fa presente il gioco. Poi ci sono un casino di regolamenti, ma perché questo del precipizio, questo delle regole, e questo del combattimento, sarebbero un manuale unico, che non so per quale motivo, l'unica cosa che non mi è piaciuta, la GV ha deciso di dividere in tre. Ed è un po' dispersivo, perché a volte se voglio vedere una cosa del precipizio, devo tornare su questo manuale, se non mi ricordo una cosa delle regole, devo passare qui, però è talmente facile che si impara facilmente. Figata, schede tecniche, qua giudinto nelle schede tecniche, ci trovate tutte le schede, per usare tutte le miniature di questo gioco, soprattutto gli eroi e gli avventurieri, per giocare a Warhammer 40.000. Quindi li volete schierare, proprio nel vostro esercito, o in una battaglia di Warhammer 40.000, ci sono proprio le regole di Warhammer. E questa forse l'ho trovata la più grande figata del gioco, perché ti consente di riusarli anche in battaglie, fra eserciti. Poi, background, non poteva mancare, tutta quanta la storia e la lore che c'è dietro le Blackstone Fortress, tra l'altro un bel manuale, pieno, zeppo di storie, di cose da leggere, disegnato da paura, come si vede la GV, quando ci mettono un impegno, una passione disumana nel fare i loro giochi. Poi c'è, busta cripta nascosta, che non dovete aprire fino a fine gioco, questa è proprio chiusa, se no vi spoilerate tutto quanto il gioco. Poi, altri mazzi di carte, perché ci sono anche i mazzi iniziativa, e poi abbiamo mazzi dei nemici, ad esempio dello schieramento dei nemici, per andare a vedere chi entrerà in campo e soprattutto in che locazione, schede dei personaggi e schede dei nemici con il comportamento, perché l'intelligenza artificiale ci dirà di fare qualcosa in particolare. Quando dovete muovere un mostro, non è che il mostro viene verso di voi e vi attacca, a seconda delle regole scritte qui e sul manuale di gioco del combattimento, farà qualcosa di particolare. Poi il sacchettino, anzi i sacchettini, dove dentro potete salvare la partita. Questo è un gioco che si sviluppa a campagne, non potete giocare magari 12 missioni in una sera o in un giorno solo, quindi magari le farete nei mesi a venire, queste buste qui servono per dividere tutti quanti i componenti, così la prossima volta di chi era il rogue trader mio, ok, gli dà la bustina, apre e dentro c'ha tutta la sua roba, e non vi sbagliate, un'altra trovata veramente geniale, e poi le mappe con i tile di gioco che vanno composti quando entra in gioco, come è detto, la carta combattimento che ci dice come mettere le cose. Ora vi faccio vedere le miniature perché le avevamo già montate. Le regole del gioco sono semplicissime, come tutti i giochi della GV degli ultimi 10-15 anni, perché prima non erano così semplicissime le regole, oppure erano semplici ma ce ne mettevano talmente troppe che uno pazziva, l'unica cosa che forse non ho apprezzato molto è che il manuale, come il manuale anche di Aliens Buggant che già vi ho fatto vedere sul canale, è diviso in tre parti. Non mi puoi fare un manuale unico di 50 pagine e non mi mette paura, piuttosto che farmi magari tre manualetti da 20 pagine ciascuno, cose del genere, perché se poi arrivo nel manuale del combattimento e non mi ricordo com'era la fase precedente, mi tocca andare a riprendere il manuale precedente e magari non mi ricordo più nemmen qual era la pagina. Quindi è un po' scomodo. Ho preferito sinceramente leggerlo in un PDF scaricato. In inglese non è un problema quello, tanto sotto le regole incrocio a me tutti i giochi della GV, vi dicevo poc'anzi. Però questa cosa non mi è piaciuta. Il regolamento è molto semplice. C'è una fase di esplorazione e una fase di combattimento. Quando voi andate a creare il mazzo esplorazione, dovete mischiarci dentro carte esplorazione e carte invece combattimento. Non c'è una mappa predefinita. E questa è una cosa che mi è piaciuta da morire, cioè non c'è la mappa di HeroQuest, del dungeon di HeroQuest, dove voi dovete andare a esplorare le stanze. Magari le stanze cambiano la disposizione, però la mappa è quella. Cioè non puoi uscire da bordi, la mappa è quella lì. Invece ho anche WarhammerQuest o un anti-dungeon crawler. Qui la mappa non c'è, perché inizialmente voi prendete le vostre pedine, le vostre miniature, e le mettete sul tavolo, ovviamente in un ascensore gravitazionale, però le mettete lì. E non c'è una mappa, c'è il tavolo nero che vedete qui davanti con le miniature messe così sopra, che non fa nemmeno un aspetto, cioè non dà subito all'occhio, da dire bello, come componentistica, c'è tante cose, perché la mappa viene costruita piano piano nel tempo. Voi quando andate a pescare, e l'ho trovata una cosa molto generale, quando andate a pescare le carte esplorazione, può essere una carta evento, magari succede qualcosa, dovete fare un tiro di agilità, o un tiro di forza, o un attacco per superare questo problema, senza mettere niente in campo. Quindi c'è anche la componente narrativa, gioco di ruolo, cosa che in WarhammerQuest ad esempio mancava. Quando invece vengono pescate carte incontro, che possono essere carte agguato, e cambia anche la disposizione, o carte incontro combattimento, la mappa viene costruita per come è apparso sulla carta. Quindi magari la mappa è fatta in un modo, la volta dopo è fatta in un altro, e questa cosa è molto... e la mappa, cioè soprattutto i talli metti in quel momento in gioco, quando c'è una carta combattimento, perché durante la fase esplorazione non serve, non ti devi muovere per andare ad esplorare come in altri giochi, ci sono le carte molto narrativo che ti dicono cosa fare. Nel momento del combattimento invece inizia il vero e proprio spostamento tattico e il combattimento con i nemici nella Blackstone Fortress. E la figata è che ti puoi... questo dà una rigiocabilità disumana e immensa, perché ti puoi rifare la stessa avventura 300.000 volte, ma la composizione della mappa non sarà mai la stessa, e ti dà proprio l'idea di esplorare sempre un posto differente, anche altri giochi, però ripeto, HeroQuest, lo mette in campo, possono cambiare una volta la stanza qui, una volta qui, però la mappa è quella, un po' e scappa, invece Blackstone Fortress, no, ti dà proprio l'idea di essere ogni volta differente. Quando ci sono gli incontri, vai a fare i combattimenti, ti ridà di caratteristica, a seconda della caratteristica d'attacco, vai a vedere magari il valore danno dell'arma con cui stai attaccando, quelle poi sono meccaniche comunque, molto simili al Warhammer 40.000, però molto semplificate. Tiri un dado, se non esce niente, non è fatto niente, se esce un simbolino, vuol dire che ha fatto una ferita leggera, se invece esce, che può essere curata tra l'altro, se invece ha fatto un tiro critico, vuol dire che ha fatto una ferita critica, che contro nemici vale tre ferite, contro il tuo personaggio ne vale soltanto una, sono più forti, però non può essere curata. E le meccaniche sono molto semplici. Finita questa fase qui, c'è la fase al precipizio, che è una fase intermedia, praticamente precipizza questa specie di agglomerato di navi e relitti dentro la Blackstone Fortress, dove tutti i mercanti, i corsari e le flotte si ritrovano lì per commerciare. Quindi a fine missione potete commerciare quello che avete trovato, vendere, comprare e sfruttare soprattutto le vostre navi, perché anche qui ci sono le navi dove sopra potete commerciare, costruire, le potete usare in battaglia o anche come un supporto tattico nel momento del bisogno. E poi dopo di questo c'è la fase finale, perché il vostro scopo è trovare la cripta, che nel gioco è una busta chiusa, che non dovete aprire fino a che non ci arrivate, perché sennò ve lo spoilerate, c'è qualcosa di segreto che io non voglio sapere. Però per conquistare questa cripta segreta dovete trovare indizi in tutte le missioni e ogni quattro indizi li convertite per fare un assalto a una fortezza. Quindi dovete fare non più una mappa avventura e esplorazione, ma dovete costruire una mappa a fortezza con le regole del gioco e fare l'assalto. Conquistate e distrutte quattro fortezze e trovate l'indizio finale per andare nella cripta e aprire quella busta. Quindi come vedete è un gioco molto interessante, è un gioco molto veloce, è un gioco molto esplorativo, ma anche una fortissima componente narrativa che secondo me è la cosa che lo rende unico nel genere. Valutazione finale, questo Blackstone Fortress è un potenziamento, ma nemmeno, no, forse potenziamento più che altro una versione alternativa di Warhammer Quest, perché non è soltanto una trasposizione nel 40.000, qualcosa di alternativo, di bellino, magari invece di usare, ad esempio, personaggi di prettamente fantasy usati, gli Space Marine o qualcosa dei 40.000. Questo è differente nelle regole, perché ti dà proprio l'impressione di non sapere mai cosa vai ad esplorare e di essere per la prima volta all'interno di una Blackstone Fortress, magari trovata lì a spasso, poco fuori dal warp. Ti dà proprio l'idea di essere la prima persona che mette i piedi in quel settore lì, in quel settore ovviamente della nave, ed è veramente molto importante in un gioco che secondo me deve fare della componente narrativa anche un punto focale, perché è importante, soprattutto con una lore come Warhammer che se ti limiti, tira Dado, ammazza il mostro e finisce lì a raffare tesoro e scappa, perde, perde veramente tanto. Quindi consigliatissimo a tutti gli amanti dei giochi cooperativi, consigliatissimo a tutti gli amanti anche dei giochi competitivi, perché se giocate in quattro, ma cooperativa, se giocate in cinque, il quinto che fa Stanley vi guarda, no, il quinto può muovere i mostri, quindi può fare l'intelligenza artificiale, può fare il dungeon master, quindi c'è anche una componente dungeon master, e in più è un gioco che secondo me, sì, forse è un più o più per gli appassionati del genere, però lo puoi mettere abbastanza in tutti i tavoli, perché si spiega facilmente, e superato lo scalino iniziale di avere tre manuali invece che uno, ma una volta fatta una partita, poi i manuali li lasci nella scatola, manco li guardi più, non è che ci sono tabelle da andare a vedere, per, no, non ce n'è nemmeno tanto bisogno, quindi consigliatissimo per tutti gli amanti di Dungeon Crawler, consigliatissimo per tutti i fanatici come Medio Rammer 40.000, e io ringrazio la Gioco Libriera Semola che ci ha affetto questa copia per la recensione, se lo volete acquistare, primo link in descrizione, in sovimpressione, dalla Gioco Libriera Semola, nostro sito e negozio sponsor, dove lo potrete acquistare al miglior prezzo sul mercato, c'è, però, magari, ha finito le copie, oppure proprio non lo trovate in lista, scrivete a Corrado, il proprietario, e gli dite, guarda, arrivo dal canale di Coridan, si potrebbe ordinare anche se non è in lista, farà il possibile per ordinarvelo dal negozio della Games Workshop, al miglior prezzo sul mercato, e mi raccomando, qualsiasi acquisto che facciate di giochi da tavolo, o di giochi della GV, usate sempre il codice sconto Coridan 7, che vi dà un discount del 7%, quindi quello non ve lo dimenticate, e io ringrazio la Gioco Libriera Semola per avermi offerto questa copia. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, ed è una bellissima alternativa, ma veramente bellissima, a un dungeon crawler, appunto, spostato in ambientazione 40.000. Bello, bello, bello. Ciao, alla prossima!